Buonasera a tutti, intanto voglio ringraziarvi per aver partecipato così numerose a questa iniziativa nonostante il maltempo, ovviamente non pioveva da mesi, è pioveva dilubiato proprio in questo momento. Quindi grazie mille a tutti voi, voglio ringraziare i nostri relatori a partire da Francesco Critelli che ci farà il saluto iniziale, segretario del PD di Bologna, Alessandro Almerani, segretario della CISLA di Bologna, Maurizio Lunghi, segretario della CGL di Bologna, Rosalia Seragnoli che è la Presidente regionale dell'IDP che è l'associazione dei direttori del personale e Valentina Marchesini che invece è la responsabile del ritorso umano di Marchesini Gruppo. Ho ottenuto per ultimo, ma non meno importante, Filippo Taddei responsabile del mio lavoro del PD nazionale. Quindi l'initiativa di oggi, introduco proprio in un attimo il tema, riguarda un tema che fino a pochi mesi fa non era così riconosciuto. A Bologna abbiamo iniziato a lavorarci anche come il PD un anno e mezzo fa ed eravamo forse tra le primissime federazioni in Italia. Lo smart working o lavoro agile è quella che secondo me può essere oggi descritta come una rivoluzione nel modo di lavorare, che si sta per fortuna diffondendo anche in maniera molto veloce. Prima di entrare nel vivo della tavola rotonda, passo la parola a Francesco Critelli per il saluto iniziale.